Alle 12 di oggi il suono dei cellulari in Abruzzo per l'esercitazione IT Alert, il test del nuovo sistema di allarme pubblico elaborato dalla Protezione Civile Nazionale. Un suono diverso rispetto alle tradizionali notifiche, l'utente per riattivare le funzioni del proprio cellulare ha dovuto per forza leggere il messaggio, un test già fatto in altre regioni e che sarà portato avanti successivamente anche altrove. Si tratta di un'importante innovazione in caso di pericoli per la popolazione, con il mezzo sicuramente più diffuso e utilizzato il proprio cellulare, senza violare in nessun modo la privacy. Con il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Mauro Casenghini, Rete 8 ha testato la situazione in tempo reale al mercato di piazza d'armi. Filato liscio, grazie a una comunicazione che è stata fatta, ovviamente non possiamo immaginare di arrivare dappertutto, però la popolazione è stata resedotta di questo test molto importante. Speriamo che ci sia una risposta altrettanto importante dei questionarii che bisogna compilare e ci sarà tempo fino a stasera per compilarli, quindi non deve essere fatto immediatamente per dare anche un risultato concreto, anche tecnico, al Dipartimento Nazionale che sta appunto sperimentando questo sistema. Si tratta di una sperimentazione ma una volta in funzione davvero potrebbe essere un sistema utile con uno strumento che è davvero accessibile alla portata di tutti? Sì, assolutamente, anche perché è uno strumento che va proprio a localizzare il luogo dell'evento anche in previsione dell'evento, quindi sapremo con anticipo cosa potrebbe succedere, ovviamente per tutti i casi in cui la previsione è possibile e quindi aumentare la consapevolezza e diminuire quindi il rischio personale. Grazie a tutti.